Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, ben ritrovati su Radio Bari.calt, io sono Barbara Cirillo e il vostro accompagnone ogni giorno per tenervi aggiornati sui tanti appuntamenti della settimana. La settimana è solo iniziata, siamo soltanto a martedì, tra pochissimo avremo degli ospiti, parleremo di musica, parleremo di un video che insomma sta facendo parlare in questi giorni. Però iniziamo la giornata con un punto doc, un punto doc dedicato al circuito d'autore della Puglia Film Commission perché il circuito d'autore in collaborazione con Cineteca Lucana e Cineteca di Bologna presenta le vacanze intelligenti. Che cosa succede? Dall'8 luglio fino al 17 agosto il Cinema ABC propone una serie di appuntamenti tutti dedicati al cinema. L'appuntamento per questo giovedì 10 luglio alle 19 e alle 21 nella sezione Per le Porci ci sarà il thriller Fuga di Mezzanotte di Alan Parker, un film del 1977. Però non finisce qui perché il weekend delle vacanze propone anche venerdì 11 alle 19 e alle 21 quindi ancora una volta a doppia proiezione il ciclo Sound & Vision dedicato ai grandi concerti rock, quello dei Pixies al Paradise di Boston. Invece sabato 12 e domenica 13 luglio sempre doppio appuntamento, doppia proiezione. Alle 19 e alle 21 ho Harold Emoad di Alasby con Bart Cole, Cyril Cusack e tanti tanti altri. Il biglietto per le vacanze intelligenti è di 3 euro invece tranne il venerdì perché la giornata è dedicata alla musica, insomma venerdì proiezioni di concerti ve l'ho appena detto, l'ingresso è assolutamente gratuito. Per tutte le informazioni potete andare su d'autore.apugliafincommission.it Insomma un weekend davvero imperdibile, le vacanze intelligenti perché vacanze intelligenti si possono affrontare, si possono vivere anche a cinema, parlando di cinema e guardando soprattutto i film. Tutto questo al cinema ABC fino al 17 agosto, però ovviamente vi informerò dei prossimi appuntamenti, delle appuntamenti della prossima settimana alla settimana prossima e dovete attendere. Intanto aspettate ancora un po' di tempo con noi perché tra pochissimo saremo in compagnia dell'Isterio Crash Sound e parleremo del loro video perché protagonista del loro video è niente poco di meno che Bianca Guaccero, tra pochissimo.